C'è un cazzato nero. Io devo fare il provino per Giordano Bruno. Claudio, non fanno dei provini, questa è piattaforma americana. Fate guardare questo incontro, perché sennò io commetto qualcosa di... Che stai dicendo? Puoi prendere un coltello, per favore? Va a prendere un coltello, dico che se mangiamo questa, intanto se no si ammoscia, dai. Grazie.